benvenuto a tutti anche oggi nel mio canale oggi prepareremo la cubata ricetta sempre semplice ma gustosa ho già pulito due ciotole di mandorle e vado a tostarle in una pentola capiente dopodiché ci servirà anche del miele allora iniziamo mettendo le mandorle in una pentola fate tostare qualche minuto le mandorle girando di tanto in tanto posso dirvi che questo dolce si prepara in sicilia infatti si chiama cubata di mennoli ovvero si può anche tradurre torrone di mandorle una volta tostate le vostre mandorle iniziate a mettere il miele continuate a girare per un paio di minuti circa dopo un paio di minuti la vostra cubata è pronta versate tutto in un vassoio cospargete con codette colorate questa ricetta semplice e squisita è già pronta ve l'ho detto in pochi minuti potete fare questo buonissimo torrone o cubata di mennoli o di mandorle potete lasciarla così intera nel vassoio o se volete potete tagliare a pezzetti io spero che anche oggi questa ricetta vi sia piaciuta se sì lasciatemi un bel like se non siete iscritti al canale iscrivetevi perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi vi ricordo di partecipare al giveaway che è aperto e sarà aperto fino alla prima di giugno che è un venerdì da di tutto e di più è tutto ci vediamo presto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti